buon pomeriggio buon pomeriggio a voi allora due tre giorni fa presentandovi un mio video io avevo avuto modo di dirvi come molto probabilmente avrei perso del consenso e probabilmente avrei perso anche degli iscritti e così si è puntualmente verificato ero stato in buona sostanza buon profeta vi dico francamente che di questo me ne importa poco perché io non sono qui per andare a caccia per forza di consensi cioè fa piacere come fa piacere a tutti avere persone che ti seguono perché vuol dire che bene o male la linea che stai seguendo è una linea che è condivisibile ed è condivisa ora però nel nostro paese succede e questo lo vedo anche dai social che quando tu attacchi un leader politico che magari è stato idealizzato dalla maggior parte delle persone oppure fai un commento di critica rispetto a una certa situazione la gente ti volta le spalle succede un po così questo è successo ad esempio quando ho avuto modo di sottolineare il fatto che io non avrei fatto quella scelta che ha fatto Matteo Salvini di andare a citofonare a quella famiglia è successo anche quando io ho criticato il governatore della Lombardia Fontana per quel video con la mascherina vedete nel momento in cui uno critica un certo atteggiamento o critica l'idea o dichiara di non essere d'accordo con una certa idea non vuol dire che è contro quella persona non vuol dire che non stima che non apprezza quella persona io per tantissime ragioni apprezzo Matteo Salvini apprezzo tantissimo il governatore della Lombardia Fontana però ci sono talvolta delle situazioni e delle idee che non condivido e quindi lo dico non ho problemi a dirlo e credo che sia corretto che io lo dica questo ripeto mi ha fatto perdere consenso anche rispetto al video che vi ho presentato qualche giorno fa dove ho avuto modo anche di criticare certi atteggiamenti che riguardavano gli italiani e in qualche modo ho avuto modo di dare ragione ad un avversario politico apriti cielo mai bisogna dare ragione ad un avversario politico insomma in questo modo la pensa qualcuno in particolare se vi ricordate avevo sottolineato che mi ero fatto la convinzione che la teoria di Bersani non fosse poi del tutto campatinaria e cioè che a portare il coronavirus in Italia ad essere il paziente zero non fosse tanto stato un cinese ma forse un italiano e ripeto il consenso è crollato rispetto a un mio video di una settimana fa dove avevo ottenuto 2600 visualizzazioni si è andata a vedere i miei ultimi video sono sulle 2 3 4 500 visualizzazioni al massimo pazienza vado avanti per la mia strada e sono molto felice delle persone che mi stanno seguendo ora io continuo però in questa mia critica in questa mia posizione critica rispetto agli atteggiamenti in questo caso soprattutto degli italiani ora io voglio chiarire subito un aspetto perché talvolta mi viene fatta un'obiezione che così mi fa piuttosto arrabbiare ma sì tu stai citando una piccola percentuale insignificante perché invece la maggioranza degli italiani assolutamente si stanno comportando nel miglior modo possibile ora io vi faccio un esempio vi chiarisco quello che io voglio dire ora ad esempio per quanto riguarda la disciplina il rispetto delle cose ad esempio quando bisogna fare una fila quando bisogna ad esempio uscire dalle autostrade che c'è la colonna in germania in francia in altri paesi del nord le persone che non rispettano queste cose rappresenta circa lo 0,5 per cento mentre in italia è il 5 per cento che è indisciplinato che non rispetta il suo prossimo che non rispetta le regole ora voi capite che chiaro io ho fatto delle cifre così solamente per farvi capire non sono queste le cifre perché non le so ma semplicemente per chiarirvi cosa io voglio trasmettervi ed è qual è il mio punto di vista voi capite che il 5 per cento rispetto allo 0,5 è dieci volte di più tantissimo però il 5 per cento sul cento è poco perché vuol dire che il 95 per cento delle persone sono disciplinate e corrette e io dico meno male il problema qual è che in certi frangenti questo 5 per cento può creare dei danni enormi a un paese io spesso ho avuto modo di fare l'esempio della immigrazione una volta parlando dei dei nord africani dei marocchini dei tunisini dicevo che questi erano un pericolo per il nostro paese perché spesso venivano in italia senza un lavoro senza una fissa dimora spacciatori delinquenti che in qualche modo aggredivano anche le nostre le nostre donne rubavano e così via apriti cielo tu stai parlando male dei marocchini poi io ho chiarito che il problema qual è che in italia ci sono 400 mila residenti marocchini di questi probabilmente 395 mila sono delle bravissime persone purtroppo 5 mila no e voi capite che 5 mila spacciatori delinquenti che non rispettano le regole possono mettere in ginocchio un paese e questa è la stessa cosa e ancor più in questo momento avere delle persone che non seguono quelle che sono le direttive del governo quelle che sono in qualche modo in qualche modo le raccomandazioni dei degli scienziati dei virologi è una cosa pericolosissima e vi faccio un esempio di stamane nel foggiano un anziano è morto è morto di di polmonite chiaramente sono stati fatti gli accertamenti a questo anziano però è stato commesso un errore pazzesco un errore pazzesco il medico legale ha dato l'autorizzazione alle ai funerali che si sono svolti con abbracci pianti lacrime come giusto che sia in queste circostanze strette di mano per in qualche modo così incoraggiare i parenti il problema che qualche ora dopo è venuto fuori che è morto di coronavirus che era positivo e che aveva infettato i familiari che in chiesa ricevendo l'abbraccio di amici e di parenti di conoscenti hanno creato quello che mi auguro possa essere circoscritto però probabilmente un serio problema e ancor più se andate a vedere quello che è successo in corea dove praticamente la folle iniziativa di un santone di fare un congresso con migliaia di persone in pieno coronavirus ha procurato a quel paese un disastro un autentico disastro perché è da lì che è partito l'epidemia e fa sì che la corea del sud sia il secondo paese per infezioni al mondo voi capite quanto in questo momento conta la responsabilità però purtroppo io vi devo dare un altro dato un altro dato molto grave molto grave molte persone della delle zone rosse in particolare in lombardia hanno avuto modo di lasciare le zone o di lasciarle nelle ore appena dopo che si è scoperto che questo trentotenne era positivo di tornarsene al loro paese magari qualcuno addirittura di andare all'estero di andare all'estero qualcuno in engadina i primi casi che ci sono in engadina in svizzera sono portati da persone residenti in lombardia in quelle zone che avendo lì la seconda casa non hanno pensato di meglio che fuggire e andare immediatamente là creando un problema le persone che gli anziani che sono andati in belleggiatura ad alassio altre persone che sono andate in sud moltissime moltissime dei casi che si sono verificati accertati nel sud italia provengono dalla lombardia e molti di questi provengono da persone che già sapevano che esisteva un problema che se ne sono altamente fregati e sono andati via nelle seconde case sono tornati al sud sono andati in alberghi e così via senza avere un senso di responsabilità ora io capisco tutto nella mia vita a 60 anni giustifico spesso le persone capisco tante cose io capisco che un soggetto possa essere particolarmente fragile ed essersi fatto prendere dal panico e quindi aver pensato io vengo via da questa zona torno al mio paesello ma dio santo perlomeno avere il buon senso di pensare ok torno al mio paese ma me ne sto 14 giorni a casa mia no no non ci sono arrivati sono usciti di casa sono andati in giro voi capite qual è il problema questo è un problema ed è causato da noi da noi italiani e adesso probabilmente altre centinaia di italiani mi toglieranno il consenso pazienza non mi interessa non me ne frega nulla io voglio qui dire la verità perché ripeto questa è una verità non perché lo dico io tantissime persone che hanno contagiato che hanno portato il virus in giro per l'italia provenivano da quelle zone e attenzione una buona parte una buona parte sono venuti via da quella zona dopo il 22 febbraio dopo che si era saputo di questo trentotenne residente a codogno dopo non tutti non tutti ma buona parte sì e questo è inaccettabile è inaccettabile con questo sfogo io vi vi lascio spero domani di trovare ancora qualche decina di persona che che mi seguirà e a questo punto credo che saremmo insieme il meglio da questo punto di vista perché io credo che bisogna anche avere il senso critico e non dirci sempre siccome siamo italiani siamo i più belli più profumati i più carini siamo un gran bel popolo ma abbiamo i nostri madornali difetti che è quello di non avere così tanta come si dice idea che bisogna seguire le regole ecco perché chiudo con una riflessione forse quando si impartiscano delle delle regole quando il governo dà dei suggerimenti più che dei suggerimenti dovrebbero essere delle imposizioni bisognerrebbe imporre certe cose come ai vecchi tempi con questo io vi lascio e vi auguro un buon pomeriggio